Natsuko Tora ha fatto un torneo quasi perfetto. Sì signori, avete capito bene. Il suo 5 Star Grand Prix recita 6 vittorie e 2 sconfitte. Con questo risultato si è portata a casa la bellezza di 12 punti e con la finale dietro l'angolo il sogno di vincere il 5 Star Grand Prix 2023 per la leader di Oedo Tai potrebbe presto diventare realtà. Ma sarà davvero così? Ne parliamo in questo video. Signori Konnichiwa, io sono Kirito e vi do il benvenuto sul mio canale. All'inizio del video abbiamo parlato di come sia stato quasi perfetto il cammino di Natsuko Tora all'interno del 5 Star Grand Prix 2023. Ma sapete cos'altro sarebbe perfetto? No? Sicuri sicuri? Ok, ve lo dico io. Iscrivervi al mio canale. Dunque, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi e lasciate un like al video. Inoltre vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate tutti i link dei miei miei altri social, così che possiate restare in contatto con me anche fuori da YouTube. Ok, torniamo seri e riprendiamo da dove ce l'avamo interrotti, perché quello fatto da Natsuko Tora all'interno del 5 Star Grand Prix di quest'anno è qualcosa di incredibile. Sì, perché oltre ad essere riuscita a portarsi a casa la bellezza di 12 punti ed essersi guadagnata il primo posto nel Red Stars è riuscita anche a sconfiggere tutti i nomi più importanti del suo blocco. E stiamo parlando di nomi illustri, nomi del calibro di Mayu Watani e Shuri, due ex World of Stardom Champions, nonché l'attuale detentrice della Red Belt, Tam Nakano. A dire il vero, Natsuko è riuscita anche a sconfiggere Natsupoi, che come tutti sappiamo detiene i goddess of Stardom Championship insieme a Saori Anu. E oltretutto è riuscita a sconfiggere una Natsupoi ancora imbattuta prima appunto del match contro la leader di Oedo Tai. Dulcis in fundo, come possiamo non menzionare la vittoria su Amisorei, che sì, forse sulla carta resta l'avversaria meno pericolosa, ma non dimentichiamoci che Amisorei è riuscita durante il torneo a ottenere due punti contro Starlight Kid, un'avversaria alquanto ostica, nonché una delle poche lottatrici a poter vantare una vittoria proprio contro Natsuko Dora. Se perché il suo cammino non è stato perfetto, ma quasi, proprio perché ha comunque subito due sconfitte, sì, solo due sconfitte, che però hanno comunque lasciato il segno e una speranza, seppur minima, alle altre lottatrici di poter fare più punti di Natsuko Dora e provare a vincere il Red Stars. Queste due sconfitte sono arrivate contro Suzu Suzuki e, come abbiamo detto poc'anzi, contro Starlight Kid. Direi un po' a sorpresa, ma che non hanno comunque intaccato lo splendido percorso fatto da Natsuko Dora fino ad ora. Devo ammettere che non mi sarei mai aspettato che Natsuko Dora fosse in grado di fare un torneo a cinque stelle. Non fraintendetemi, per chi segue la Stardom da più tempo, sa benissimo che Natsuko Dora sia una lottatrice di tutto rispetto. Forse talvolta sottovalutata un po' da chiunque, Stardom compresa. Natsuko Dora, a mio avviso, merita quello che ha ottenuto e sta ottenendo all'interno del Five Star Grand Prix 2023. E vi dirò, la vittoria dell'intero torneo da parte di Natsuko non sarebbe così scandalosa. Lo so, lo so. Io, in primis, sostengo che ben altri lottatrici meriterebbero di vincere il Five Star Grand Prix di quest'anno. E, come ormai penso sappiate, secondo me la più meritevole è Mina Shirakawa. Ne ho già parlato diverse volte in video precedenti, quindi non voglio soffermarmi troppo su questo argomento, ma penso che in chiave storyline la vittoria di Mina Shirakawa sia la scelta migliore. Inoltre, Mina è sicuramente la lottatrice che più è migliorata durante l'anno. E vincere il Five Star Grand Prix 2023 per lei sarebbe il coronamento di un sogno, nonché la ricompensa perfetta per i suoi ardui sforzi. Ma torneremo a parlare di questo e molto altro riguardanti il Five Star Grand Prix 2023 nei prossimi video. Quindi, per essere sicuri di non perdervi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, mi raccomando. Per ora torniamo a parlare di Natsuko Tora, una Natsuko Tora che ormai si è giocata quasi tutte le sue carte. Sì, perché a lei manca soltanto un match per chiudere il suo percorso nel torneo. E questo match lo disputerà ovviamente il 30 settembre, durante il pay-per-view dedicato proprio alla finale del Five Star Grand Prix 2023. Nel suo ultimo match, Natsuko dovrà sfidare niente meno che Azuki, una sua ex compagna di stable con cui è tornata a far squadra proprio in occasione di Dream Tag Festival, pay-per-view che è andato in onda il 10 settembre. Un pay-per-view molto particolare che ha visto molte coppie riunirsi per una sola notte, come nel caso di Azuki e Natsuko Tora. Azuki ha iniziato il torneo non nel migliore dei modi, arrivando addirittura a segnare uno score di 0 vittorie e 3 sconfitte. Ma nelle ultime settimane parrebbe che la splendida lottatrice appartenente a Stars sia riuscita a scalare la montagna, portando il suo score a 2 vittorie e 3 sconfitte. Quindi Azuki non è assolutamente un'avversaria da sottovalutare. Ma oltre a lei, Natsuko Tora dovrà fare molta attenzione a Natsuko e Shuri, che sì, lei ha già sconfitto, ma che possono comunque contare su uno score alquanto interessante. Lo score di Shuri recita 3 vittorie, una sconfitta e un pareggio, mentre quello di Natsuko recita 4 vittorie, una sconfitta e un pareggio. Dunque entrambe possono ancora mettere in difficoltà Natsuko Tora, che quindi non può assolutamente dormire sogni tranquilli. Le prossime settimane per Shuri e Natsupoi saranno di vitale importanza, come lo saranno per Natsuko Tora, che non può farsi trovare in preparata quando dovrà affrontare Azuki il 30 settembre. Natsuko dunque sembrerebbe ad un passo dalla finale e dopo lo splendido percorso fatto meriterebbe assolutamente di raggiungerla. Per Natsuko Tora questa sarebbe la prima finale a cui lei abbia mai preso parte, sì perché nelle precedenti edizioni del torneo Natsuko non è mai riuscita a raggiungere la finale e tanto meno a vincere il 5 Star Grand Prix. Mai dire mai però, perché questo potrebbe essere l'anno giusto, l'anno della rinascita di Natsuko Tora. Ma attenzione, sì perché come probabilmente avrete già notato c'è una notizia importante per tutti i fans di Natsuko Tora. Quale? Beh, come potete vedere tramite il proprio profilo Twitter, la Stardom qualche giorno fa ha annunciato che Natsuko Tora affronterà niente meno che Tam Nacano in un match valido per la Red Belt il 9 ottobre. Ora, se tanto mi da tanto, questo parebbe uno spoiler direi non troppo velato che la Stardom erroneamente sia concessa. In effetti sembrerebbe alquanto strano che Natsuko Tora andrebbe a sfilare Tam Nacano nello show del 9 ottobre avendo già in tasca la vittoria del 5 Star Grand Prix 2023. Solitamente chi vince il torneo sfrutta questa occasione per sfidare la campionessa a Dream Kingdom per per view che va in onda a fine dicembre. E oltretutto non avrebbe nessun senso dare una doppia possibilità titolata Natsuko Tora prima a ottobre e poi a dicembre. Dunque la Stardom ci ha praticamente spoilerato che Natsuko Tora non vincerà il 5 Star Grand Prix 2023? Succederà qualcosa nelle prossime settimane che impediranno a Natsuko di arrivare in finale? Saranno Shuri o Natsuko poi in un modo o nell'altro a vincere il Red Stars e a raggiungere la tanto agognata finale del torneo? Chissà! Staremo a vedere! Intanto io vi ricordo cortesemente di iscrivervi al canale se ovviamente non lo avete ancora fatto e di spuntare la campanella per non perdervi contenuti futuri. E non dimenticatevi di mettere un bel like al video se ovviamente vi è piaciuto. Vabbè facciamo così. Il like voi mettetelo lo stesso anche se il video non vi è piaciuto. Così aiuterete lo stesso me e il mio canale a crescere. Qua sotto nei commenti potete lasciare ovviamente il vostro commento sull'argomento di cui abbiamo discusso ampiamente in questo video. Sentitevi liberi di commentare il tutto come meglio crediate ma sempre col massimo rispetto ed educazione. Siamo arrivati anche da oggi al tempo dei saluti dunque dal vostro amichevole chirito di quartiere per oggi è tutto. Grazie di cuore e alla prossima! Matane!